Ho fatto un proprio lavoro a alto livello, bellissimo, è una cosa bella. Lei da dove viene? Bonito, è una cosa bella. Però è bello, ci voleva. Dopo tanti anni? Dopo tanti anni. Quindi a Sant'Angelo a Scala? Sì. Alle 6.35 la prima corsa per Ponte Romito, un evento salutato con selfie e fotoricordo anche da amministratori e dipendenti dell'AIR. A 35 anni dal progetto apre l'autostazione ad Avellino, un'apertura a metà dopo l'inaugurazione del 7 settembre scorso alla presenza del governatore De Luca. Per ora infatti sono ancora pochi pullman in partenza, 153 le corse al giorno tra urbane ed extraurbane, 24 gli stalli invariate, le partenze programmate dal piazzale degli Irpini, disponibile l'ingresso della struttura in via Fariello al primo piano, geoperativi, l'infopoint, la biglietteria e i servizi igienici in altezza di accendere le luci della galleria commerciale. Soddisfatto l'amministratore unico dell'AIR, Antonio Acconcia. Facciamo le cose per gradi affinché l'autostazione diventi cuore neuralgico non solo per il trasporto ma anche per la stessa città. Nei prossimi giorni anche il parcheggio interrato entrerà in funzione, per cui insomma anche lì, questa è una cosa importantissima, nel centro della città un parcheggio di circa 240 posti auto con ricarica per macchine elettriche, mezzi vari, insomma devo dire sarà veramente un centro servizi, per cui nei prossimi mesi vediamo, non so dire quando, ma sicuramente sarà un... progressivamente metteremo in funzione un po' tutto fino ad arrivare alla sua piena attuazione.